Oggi voglio rispondere a tre domande che chiunque ha a che fare o vuole avere a che fare con la programmazione software si è sicuramente fatto. Ma perché ci sono così tanti linguaggi di programmazione? Quali sono le differenze tra un linguaggio ed un altro? E quale linguaggio è meglio imparare per primo? Prima di continuare ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Fondamentalmente ci sono due ragioni per cui ci sono così tanti linguaggi di programmazione. La prima ragione è che non esiste un linguaggio di programmazione universale che vada bene per risolvere tutti i tipi di problemi e si possa utilizzare in qualsiasi situazione. Per cui, a seconda del problema da risolvere, un linguaggio è più adatto rispetto ad un altro. Detto questo, possiamo classificare i linguaggi in Linguaggi general purpose, dove puoi creare praticamente qualunque tipo di applicazione che ti viene in mente e linguaggi domain specific, dove puoi effettuare in maniera molto semplice solo una determinata operazione per esempio manipolare database oppure cercare pattern specifici all'interno di stringhe di testo. In questo video vedremo solo alcuni dei linguaggi general purpose. La seconda ragione per cui ci sono così tanti linguaggi di programmazione è una questione stilistica e di preferenze personali. Come in ogni altra forma d'arte, anche nella programmazione l'autore esprime dei concetti secondo il suo stile ed i suoi gusti. Visto che creare un nuovo linguaggio di programmazione non dico che sia facile, ma non è nemmeno difficilissimo, ecco che molti programmatori, insoddisfatti dei linguaggi che conoscono, creano un nuovo linguaggio che permetta loro di esprimersi nella maniera che vogliono. Un altro fenomeno connotato negli anni è che i linguaggi di programmazione seguono delle mode. Per esempio, nei primi anni 2000 andava di moda programmare in PHP, poi la popolarità del linguaggio è andata via via diminuendo e oggi nessuno usa più PHP per nuovi progetti, ma solo per mantenere siti fatti con WordPress e Drupal. A cavallo tra il decennio 2000 e 2010 era popolarissimo il linguaggio Ruby, grazie al framework Ruby on Rails. Oggi la sua popolarità è diminuita drasticamente. Iniziamo quindi una carrellata di alcuni dei principali linguaggi di programmazione, senza un ordine particolare. Il linguaggio C è stato sviluppato da Dennis Ricci all'inizio degli anni 70 con l'intento di avere un linguaggio per il sistema operativo Unix che potesse essere facilmente portato su differenti architetture. Ha goduto di estrema popolarità negli anni 80 e 90 ed è stato usato per scrivere veramente di tutto. Oggi diciamo che è molto meno usato di allora, ma visto che oggi utilizziamo ancora parecchi software che hanno avuto origine negli anni 80 e 90, ecco che il C è ancora usatissimo per mantenere quei programmi. Uno svantaggio enorme di questo linguaggio è che il compilatore non ti ferma dal puntare a zone di memorie arbitrarie come pure non ha metodi automatizzati per liberare la memoria una volta allocata. Questo fa sì che se non sei ultra disciplinato, è facile che i tuoi programmi abbiano vulnerabilità di sicurezza anche gravi. Esempi di software scritti in C sono il kernel di Linux e la maggior parte delle utility GNU. Personalmente trovo il linguaggio C ottimo e a mio avviso ogni programmatore dovrebbe impararlo, se non altro perché la maggior parte dei linguaggi moderni si basano sui concetti e sulla sintassi del C. Il C++ è stato sviluppato tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 da Bjarne e Strustrup con l'obiettivo di fare un linguaggio di programmazione compatibile con il linguaggio C ma che rendesse più naturale la programmazione object-oriented. Ha goduto di estrema popolarità negli anni 90 e 2000 ed è stato utilizzato soprattutto per scrivere software applicativi e videogiochi. Uno svantaggio enorme di questo linguaggio è la sua complessità. Dovendo rimanere compatibile col C poi, ecco che si porta dietro pure le vulnerabilità di sicurezza legate al C. Esempi di software scritti in C++ sono il browser Google Chrome e la suite LibreOffice. Personalmente trovo complessità e vulnerabilità due ragioni più che valide per tenermi il più possibile alla larga da questo linguaggio. Il C Sharp è stato sviluppato tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 dalla Microsoft per fare concorrenza a Java. Onestamente non so molto di questo linguaggio ma pare sia molto popolare in ambiente Microsoft. Altro utilizzo che conosco del C Sharp è per scrivere videogiochi utilizzando il popolarissimo engine Unity. Personalmente conosco troppo poco C Sharp per averne un'opinione ma la sua origine simile a Java mi tiene lontano per gli stessi motivi che mi tengono lontano da Java. Java è stato sviluppato a metà degli anni 90 da Sun Microsystems con l'obiettivo di essere un C++ semplificato portando all'estremo i concetti di programmazione object-oriented. A differenza di C e C++ Java non viene compilato in codice nativo del processore ma viene compilato in codice eseguibile della Java Virtual Machine. Poi ogni sistema che ha una Java Virtual Machine può eseguire programmi scritti in Java. Onestamente non trovo differenza tra la Java Virtual Machine ed un linguaggio interpretato. Ha goduto di estrema popolarità negli anni 90 e 2000 per via di aggressive campagne di marketing da parte di Sun Microsystems e del fatto che veniva insegnato nell'università. Oggi Java è usato più che altro per scrivere app per cellulari Android anche se per questo ambito sta lentamente venendo soppiantato da Kotlin. Personalmente trovo Java pessimo e diseducativo per via del fatto che, visto che negli anni 90 andava di moda la programmazione object-oriented e si pensava che la programmazione object-oriented fosse la panacea di ogni male ecco che Java è stato progettato per supportare esclusivamente la programmazione object-oriented. Questo ha fatto sì che chi impara Java come primo linguaggio ha difficoltà poi a capire come certe classi di problemi si possano risolvere in maniera molto più semplice con paradigmi procedurali o funzionali risultando così in codice inutilmente complesso. In più, visto che Java non viene compilato in codice nativo ci sono linguaggi interpretati che hanno prestazioni paragonabili se non migliori di Java ma sono molto più semplici ed espressivi. JavaScript è stato sviluppato a metà degli anni 90 da Brandon Eich con l'obiettivo di rendere dinamiche le pagine web. Per un decennio non è stato preso seriamente finché a metà degli anni 2000 Douglas Crockford pubblica il libro JavaScript The Good Parts dove dimostra che in realtà JavaScript può anche essere utilizzato per scrivere applicazioni serie vere e proprie. Sebbene il nome JavaScript possa far pensare che abbia qualcosa a che fare con Java in realtà si tratta di due linguaggi completamente differenti che non hanno assolutamente niente in comune l'uno con l'altro. A partire da metà anni 2000 è diventato popolarissimo soprattutto per il fatto che è l'unico linguaggio che gira all'interno di un browser web. Questa sua popolarità ha fatto sì che in seguito venisse utilizzato anche al di fuori delle pagine web come per esempio sui server attraverso Node.js o anche su applicazioni desktop utilizzando Electron. Esempi di software scritti in JavaScript sono praticamente qualunque pagina web moderna per esempio l'interfaccia Gmail oppure per un'applicazione desktop scritta in JavaScript un esempio potrebbe essere l'editor Visual Studio Code. Personalmente trovo JavaScript abbastanza buono ma non lo consiglio come primo linguaggio di programmazione in quanto ha troppe stranezze che non si trova in altri linguaggi. Se invece conosci già un altro linguaggio di programmazione ti consiglio di imparare JavaScript perché questo ti aprirà tutto il mondo della programmazione web. Python è stato sviluppato tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 da Guido Van Rossum per avere un linguaggio di scripting semplice. Sta godendo di estrema popolarità a partire da metà degli anni 2000 in diversi ambiti dai server alle applicazioni per Linux all'intelligenza artificiale e machine learning. Esempi di applicazioni Python sono la parte server di molti siti web tipo Dropbox e Instagram o anche applicazioni desktop per Linux tipo Meld. Personalmente trovo Python favoloso. Non solo è un linguaggio estremamente semplice ed elegante ma anche una versatilità che pochi altri linguaggi hanno. Concludendo Per rispondere alla domanda di quali linguaggi imparare per primo è importante sapere una cosa. Visto quello che ci siamo detti a inizio video che non esiste un linguaggio universale che vada bene per tutto e visto che i linguaggi di programmazione seguono le mode non esiste un linguaggio che impari oggi e userai solo quello per tutto il resto della tua carriera. La buona notizia è che una volta imparato un linguaggio i concetti della programmazione rimangono sempre gli stessi quindi imparerei un altro linguaggio molto velocemente. Detto questo consiglio sicuramente di iniziare con Python perché è molto semplice ma allo stesso tempo supporta tutti i paradigmi di programmazione più comuni dandoti così la possibilità di approcciare il problema nel modo più adatto alla situazione. In più con Python puoi fare veramente di tutto dal piccolo script usaggio a età che so un file manager testuale per dirne una. Una volta che hai imparato Python ti consiglio di imparare i linguaggi C e JavaScript per le ragioni dette in questo video. Grazie dell'attenzione ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odyssey trovi tutti i link in descrizione al prossimo video ciao per cui a seconda del programma primo errore dai server alle applicazioni Parlinus all'internet grazie a tutti i miei video